Cioè avere e tenere le poltroni, gli spazi produttivi occupati solo per quelle persone che in realtà mi vanno in sviluppo, chiamiamolo così. Perché? Perché la mia capacità produttiva è quella, solo che se occupato da un cliente da uno non vale un cazzo, se occupato da un cliente che vale 100 probabilmente è meglio. Si capisce? O parlo alien, o dico cose strane, parlo di fuffa, non è così, sto dicendo cose molto intelligenti mi sembra. Oggi ci occupiamo di lavorare su come conquistare la fiducia dei clienti e su come ottenere i clienti migliori possibili per la nostra attività. In particolare se la nostra è una micro o una PMI, ci sono delle regole molto importanti per evitare di capottarsi, fare scemenze o cadere preda di deliri che si possono ascoltare online o in altri lead che non siano all'interno della nostra famiglia di metodo merenda. Il concetto di base è l'importanza di evitare quel classico sistema nel quale si acquisiscono clienti quindi si fanno campagne basate su ecco un annuncio, facciamo questo, vieni a comprare quello che facciamo qualunque cosa questa cosa significhi, quindi vieni da noi in azienda, vieni da noi in studio permetti una visita di un mio rappresentante, vieni nel mio ristorante, qualunque cosa questa cosa significhi nel nostro settore specifico con invece un ecco che cosa facciamo, permettimi, permettimi di inviarti gratuitamente una serie di materiali gratuiti a casa, in studio, in azienda, dove non è importante per spiegarti meglio di cosa ci occupiamo e perché dovresti preferirci rispetto alla concorrenza perché questo è il messaggio di base che noi vogliamo veicolare, vieni a comprare da noi. Quindi è creare questo insieme di materiali e procedure in modo da lavorare solo con quei clienti che più si identificano con noi, con il nostro modo di lavorare, con il nostro prodotto, con il nostro servizio con le nostre regole, tra virgolette, con la nostra azienda. Perché? Perché vogliamo avere a che fare in maniera efficiente solo con dei clienti che possano essere soddisfatti in maniera semplice e quindi devono essere persone che godono, tra virgolette, del nostro prodotto, del nostro servizio e soprattutto del nostro modo di fare le cose e dei clienti in particolare che rimangano con noi nel tempo e che ci diano dei referral, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna filtrare i clienti. Quindi in maniera iper riassuntiva questo è il concetto di base, cioè mettere un antivirus, quindi una barriera tra noi e i clienti in realtà. Mettere questo insieme di materiali formativi e informativi e di procedure interne, quindi abbiamo detto di test, di screening, domande alle quali i clienti devono rispondere magari con un venditore, al telefono, dal vivo. Insomma, tutto questo insieme di strumenti per prequalificare il cliente e fare in modo di far passare solo i clienti migliori e tenere fuori i clienti che non vanno bene con noi. Quando parliamo di questo meccanismo, cioè di conquistare la fiducia dei clienti attraverso la discriminazione dei clienti che non vanno bene, per tenere solo i clienti precisi, i clienti più adatti a noi, possiamo chiamarli, c'è un problema perché probabilmente qualcuno si può essere spaventato, si può spaventare perché pensa, ma cavolo, no, io voglio lavorare con tutti, questo io sto pagando le campagne, questi sono i clienti che arrivano, me non interessa, bianco, nero, sedesta, sinistra, quello che è, io voglio vendere a tutti. Questo è un pensiero naturale che può venire alle persone perché non sono ovviamente esperto di business model, esperto di marketing e quindi fanno i conti sbagliati. Perché questo è un conto sbagliato in realtà? Nel mondo reale voi vi accorgerete come PMI in particolare, quindi come piccola azienda, piccolo studio, attività, semi unipersonale, negozio, centro estetico, dentista. Voi vi accorgerete di una cosa, possiamo riempirvi di clienti e riusciamo a creare molti più clienti di quelli che ve ne servono. Che cosa vuol dire? Le aziende hanno una limitata capacità, cioè non gli mancano i clienti, poi gli mancano i clienti perché non fanno niente, non fanno marketing, quindi sono sempre così che hanno la sensazione che gli servirebbero dei soldi subito da buttare nel conto corrente perché sono rovinati, ma in realtà, restando lucidi e cominciando a fare due cose, due di base, le aziende si rendono conto che non mancano in realtà i clienti, ma manca all'interno delle PMI, degli studi, delle aziende singole, del singolo ristorante, cioè manca la capacità di servire i clienti. Quindi gli spazi vuoti, gli slot vuoti che abbiamo a disposizione per i clienti. Abbiamo un numero limitato di personale, se vendiamo servizi che possono erogare, installare magari il prodotto o erogare il servizio, che ne so, fate consulenza e quante persone avete che possono fare queste consulenze? E se sei da solo, quante ore al giorno puoi dedicare a fare le consulenze, se poi devi anche dedicarti a gestire il resto del tuo business, controllare un po' l'amministrazione, fare un po' di... Cioè, nel senso, non hai tutto il tempo del mondo, no? Quanti clienti potrete gestire? La verità, ok? Senza fare casino, perché poi a prendere i soldi e non consegnare, sono capaci tutti. A prendere i soldi e straconsegnare è il gioco difficile, quello che cerchiamo di fare noi. Quindi, in ogni lavoro, che sia da quello che ha la macchina, che fa i tondini, a erogoservizi, o sono un professionista, come abbiamo detto prima, o uno studio, vedete che non cambia. Nel senso, il vero problema della PMI, della partita IVA italiana, è che abbiamo una scarsa capacità produttiva. Non capacità, nel senso, qualità produttiva. Capacità, nel senso, abbiamo pochi spazi, poche poltrone, poche persone, pochi slot proprio di tempo per poter acquisire clienti e servirli nella maniera corretta senza fare danni, no? Il come sono i tuoi clienti avrà moltissimo, in realtà, a che fare con il come sarà il tuo fatturato. Cioè, la vendita a strascico, a chiunque respiri e chiunque sia disposto a darmi soldi, io li prendo. È una pessima idea, è una pessima idea. Adesso cerco di spiegarvi il perché. Facciamo conto che io ti do dieci pazienti che sono al massimo, dieci clienti o dieci studenti che sono al massimo per uno slot temporale X, che tu possa assorbire. Usiamo questa parola, perché tu puoi assorbire dieci pazienti. Ma questi dieci cazzo di clienti sono difficili da chiudere, perché tutto quel sistema di cui abbiamo parlato, di filtraggio, di materiali di marketing, di preeducazione, di testi, di domande, di colloquio, prima di arrivare a parlare con te, non è stato fatto. Cioè, tu hai le campagne alla vecchia. Ad, clicca, venite per un preventivo gratuito, un'offerta gratuita, eccetera, eccetera. Bene, il cliente non è educato. Magari ha visto un ad, eccoci qua, vendiamo questo, venite. Bene, questo modo di lavorare, siamo qui, e venite, che non è il modo nel quale lavoriamo noi. Ti porta, diciamo, dieci clienti, ma sono tutti storti, non formati, diffidenti, non sono pronti al prezzo, non sono pronti alle tue condizioni, non sono pronti al pacchetto che gli vuoi vedere, non sono pronti a un cazzo. E quindi ne chiudi uno, ne chiudi due massimo. È meglio se io ti porto dieci clienti, dei quali ne chiudi uno, due, o se ti porto cinque potenziali clienti, che quindi in realtà già di base ti prendono meno tempo, perché ti fanno perdere meno tempo, perché? Perché stai facendo meno trattative, chiamiamoli così, ok? Quindi ti porto cinque clienti che però sono tutti profilati, preeducati col marketing, filtrati, eccetera, eccetera, e ne chiudi tre. E porca puttana, qualunque persona normale di cervello capisce che è meglio se ti porto cinque persone e ne chiudi tre, che se te ne porto dieci e ne chiudi uno o ne chiudi due, c'è comunque un 50%, un 100%, 200% in più, ok? Da uno a tre c'è un 200% in più di chiusura, non è che ci vuole un gen. La costruzione del marketing che stintra in realtà e serve a conquistare la fiducia, cioè a tirare dentro i clienti che si fidano di noi, i clienti migliori, i clienti in target, i clienti più qualificati, serve per fare due cose, per farmi guadagnare di più investendo meno tempo nel gestire i clienti, nel gestire la trattativa, nel gestire in realtà il lavoro, il tempo che devo dedicare alle persone che sono solo dei curiosi, che sono fuori target, che non hanno soldi, che vogliono gli sconti, eccetera, eccetera. Quindi la differenza tra l'ad del cazzo su Instagram che vi fate a un funnel costruito da noi, con i clienti presi da una ricerca profilata magari su Google che sono già più caldi e poi le mandiamo e ricevi il paccone da noi e guarda il video e fai questo, un cazzo in altro, ricevi la telefonata dal nostro telemarketer che ti spiega, ti filtra, eccetera, eccetera, e quando arrivi in azienda, in studio o a parlare anche con il venditore senior, le chiudiamo le trattative, perché il lavoro è già stato fatto. L'approccio prenditoriale stupido, in realtà il venditore organizzato non capì perché il costo marketing si fa rincoglionire, eccetera, eccetera, non dico il marketing è il minore dei problemi in realtà, è quanto tu sai far girare l'azienda da sotto, ma insomma, il punto è, l'approccio stupido è quello di cercare di espandere la capacità di vendita, quando in realtà quello corretto è utilizzare meglio lo spazio che abbiamo a disposizione. Ci sono due regole per espandere un business, uno è riempire innanzitutto la capacità produttiva, cioè se devo aprire una seconda, una terza, una quarta sede di qualcosa, parlo di questi business che sono già localizzati per esempio, ma potremmo parlare anche di un business che deve assumere quindi operai e comprare macchinari, quindi comunque capitale intenso, quindi qualunque modello di business quando si deve espandere deve sostenere dei costi, ok? Non necessariamente una nuova struttura, magari devo comprare il macchinario, devo assumere nuovi operai, nuovi installatori, cioè qualunque business è uguale, il principio sottostante non cambia. Uno, prima di espandermi dovrò sincerarmi di aver riempito sta cazzo di capacità produttiva, delle sedie, delle poltrone, devi riempire la capacità produttiva attraverso questo sistema che vi sto dicendo, solo dei clienti migliori. Cosa vuol dire dei clienti migliori possibili? Clienti migliori possibili ragazzi sono i clienti che possono upsellare, crossellare e mettere in un piano di continuità, cioè fare in modo che diventino clienti ricorsivi. Cioè io non voglio la gente che viene al ristorante e basta e mi prende la margherita e una coca cola. Io voglio la gente che viene al mio locale e prende l'antipasto primo, secondo, dolce, caffè, ammazza caffè. Questi sono i clienti che vogliono, perché la sedia è occupata per lo stesso tempo, porca puttana, e quello è il problema, ok? La sedia più o meno è occupata per lo stesso tempo, perché la gente sta lì e fa melina. Quindi ci sarà una differenza tra uno che mi spende 10 euro e uno me ne spende 50 e io voglio, nel limite del possibile, cioè sto strecciando chiaramente gli estremi, voglio il cliente migliore possibile, quello che nella mia attività mi compra tutto quello che gli vendo, buona parte di quello che gli vengo e diventa un cliente ricorsivo, che mi dà dei refer, che si dice in americano a scienzo, cioè che diventa un cliente di maggior valore perché compra più prodotti, prodotti a maggior margine, compra gli upselling, i miei prodotti top, VIP, VIP experience, tutte queste cose qua. Quindi ragazzi, segnatemi queste cose, cioè il mio problema è che la mia sede si riempie molto in fretta se c'è qualcuno dietro bravo al marketing. Il mio problema è di essere bravo al marketing, quindi non è mandarti merda, ok? Per un cliente, un cliente non è un cliente, esiste cliente di merda ed esiste cliente buono. E non sto parlando di valori umani della persona, sto parlando di rasi interni di business, un po' asciutto, ok? Ci sto parlando di un cliente mi lascia 10 euro per stare lì, ok? Su che cazzo ne so? Un cliente viene a fare solo l'igiene, una volta ogni sei mesi sono un dentista, magari non è il cliente che voglio, voglio quello che si fa fare lo sbiancamento, voglio quello che si fa rifare la bocca, voglio quello che si fa rifare le faccette, cioè voglio un cliente che lo posso tenere e portare in sviluppo. Tanto più diventi vecchio, più i denti si... ma sapete, avrai sempre qualcosa da fare, no? Non voglio avere un centro estetico dove entra uno e si fa fare solo le unghie per 20 euro e poi si toglie dal cazzo. C'ho altri 100.000 servizi, ok? Ma quello non c'ho capito, quello è un buon cliente, va a fanculo, ok? Riserverò la sedia con mani e piedi solo per quelle clienti che so che una volta che sono venuto e hanno provato il frontend, mi hanno comprato un cazzo di pacchetto per i trattamenti, non lo so che cazzo fate, viso, corpo, massaggi, cerette, laser, quello che cazzo fate nel vostro centro, è così. Avere e tenere gli spazi produttivi occupati solo per quelle persone che in realtà mi vanno in sviluppo, chiamiamolo così, ok? Perché la mia capacità produttiva è quella, solo che se occupato da un cliente da uno non vale un cazzo, se occupato da un cliente che vale 100 probabilmente è meglio. Si capisce? O parlo alien, o dico le cose strane, parlo di fuffa, non è così, no? Sto dicendo cose molto intelligenti mi sembra, ok? Però mi sembra che non le applichiamo queste cose. Allora, se ragioni in termini imprenditoriali veri, di patrimonializzare l'azienda, cosa significa in realtà patrimonializzare veramente l'azienda? Al di là della definizione che ti dà il commercialista in termini di bilancio, che io te ne do un'altra, cioè ragioniamo in un'ottica leggermente diversa. Quello che io voglio fare non è creare la fiducia nel cliente attraverso il marketing e tutte le cose che stiamo dicendo, solo per la prima vendita lo spremo un po' e puoi scappare. In realtà io quello che voglio è rendere il mio cliente un cliente ricorsivo che rimane nel tempo. Che cosa diamine significa? Significa che io voglio che la mia capacità produttiva sia occupata da clienti che pagano, rimangono, salgono di livello, cioè comprano altre cose, fanno upselling e crossselling, la scensione di cui abbiamo parlato e mi mandano referral. Voglio queste quattro cose, voglio clienti che pagano, che rimangono, che ascendano, cioè che diventino sempre di più fidelizzati, comprano sempre più cose, sempre più clienti VIP per la mia azienda e posso farlo solo se sono clienti appropriati per la mia azienda. Qual è il punto? Che per fare questo vi serve un sistema che tenga fuori le persone, cioè un setaccio da una parte li devo buttare dentro ma poi c'è il setaccio che mi butta fuori la paglia e mi tiene solo loro. Quindi se voi ragazzi volete tenere tutti, avete uno spazio di consegna troppo mischiato tra merda e roba buona e quindi la merda finisce per sommergere la roba buona e non avrete mai la capacità di generare quella relazione speciale che potete avere se non inseguite un numero spropositato di merda ma vi concentrate a fare tutte le cose che vi ho detto, più livello di filtri, ok? L'orientamento al cliente, tutte queste cose, prendervi cura di portare i clienti verso la banca dati dei mille clienti straordinari che a comando se faccio un'offerta pagano la mia Ferrari nuova. Dateci dentro, lavorate subito su questa lezione che secondo me è straordinaria, non mi parlo addosso, però è straordinaria, ok? E ci vediamo alla prossima. Ciao!